L'Abruzzo si apre al mototurismo con una festa di tre giorni dal 24 al 26 maggio prossimi in una location iconica della regione e di Pescara. Perché si solgerà al marino di Pescara, appunto nel padiglione Becci e nelle aree limitrofe. Tra l'altro, questo rappresenta la parte più importante di un progetto che vuole proprio valorizzare il mototurismo e proporre l'Abruzzo come meta del mototurismo. Si tratta di un fenomeno in crescita continua perché solo nel 2023 ha registrato oltre 2 miliardi di fatturato il mototurismo in Italia, di cui 1 miliardo e 400 milioni proveniente da mototuristi esteri appunto in visita in Italia. 12 milioni di presenze, quindi un mercato veramente importantissimo. Grande attenzione di regione e degli enti camerali, grande la proposta, tante le situazioni degli organizzatori dei Rider Days. Avremo il Legend Garage, quindi le moto storiche, le moto d'epoca con le loro premiazioni. Avremo un motoshow con Christian Sperandier e Emanuele Angius con il Salto della Morte. Avremo ovviamente i Temporary Shop per acquistare materiale per moto e per provare le moto. Avremo dei test ride, avremo concerti, street food, sarà una vera e propria festa all'interno della Marina di Pescara. L'abbiamo definito anche un motoraduno perché arriveranno da tutte le parti d'Italia e avremo due touch point, forse tre. Per touch point, cosa sono i touch point? Chi arriverà da nord si fermerà al porto di Giulianova dove offriremo una colazione. Questa cosa faremo con il Marina di San Salvo. Tanti motoclub ci stanno dando una mano, quindi a chi arriverà verrà offerto un itinerario. Quindi ci saranno sei barra otto itinerari che porteranno i motociclisti o a Campo Imperatore o sulla costa dei Trabocchi. Poi se si va sul sito riderdays.it si troveranno tutte le informazioni.